Viaggiare in prima classe alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze paesaggistiche del centro Italia percorrendo le strade più suggestive a bordo del SUV top di gamma di casa Citroën. La nostra C5 Aircross oggi ci porta a Gubbio, cittadina umbra ai confini con le marche dove storia e tradizione creano un'atmosfera unica, carica di fascino e di emozione. Nonostante le dimensioni generose, l'auto si muove con sicurezza ed agilità tra le strette via della cittadina umbra, trasmettendo una piacevole sensazione di comfort grazie ai sedili comodi e spaziosi e soprattutto alle nuove sospensioni con smorzatori idraulici progressivi che assorbono in modo impeccabile le asperità delle antiche strade del centro storico. Ad accoglierci è la splendida piazza dei consoli, un luogo dal fascino impareggiabile che dall'alto domina la città e dove ogni anno da oltre 800 anni si ripete lo straordinario spettacolo della Corsa dei Cieli, un evento unico al mondo dal grande impatto emotivo. E se nei percorsi cittadini la C5 Aircross si destreggia con grande abilità, è su strada che il SUV francese dà il meglio di sé, grazie alla motorizzazione performante ed efficiente e al propulsore Blue HD da 180 cavalli con cambio automatico e AT8 e ai numerosi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono comfort e sicurezza. Il nostro itinerario verso Gubbio ci porta poi alla Basilica di Sant'Ubaldo che dall'alto del monte Ingino domina la città. Percorriamo la stradale che si snoda nella gola del Bottaccione e che da Gubbio porta alla Madonna della Cima, una strada dall'andamento sinuoso che esalta il comportamento dinamico della nostra C5 Aircross. Con i suoi 4 metri e 50 di lunghezza questo SUV si distingue per la personalità audace dalle molteplici possibilità di personalizzazione. Un'auto che esprime potenza con un frontale ampio e imponente, il cofano alto, distanza dal suolo e assetto di guida rialzato, volumi fluidi, impreziositi da elementi grafici unici e distintivi. L'abitacolo è spazioso e ricercato, inondato di luce, grazie al tetto apribile panoramico in vetro di grandi dimensioni. Gli interni sono generosi e trasmettono una grande sensazione di spazio. La plancia si distingue per le linee fluide ed armoniose, il display digitale configurabile per visualizzare le informazioni di guida e nella parte centrale il touchpad capacitivo da 8 pollici. I sedili Advanced Comfort offrono morbidezza e sostegno anche nei lunghi tragitti e dispongono di numerose regolazioni in altezza e in profondità e di un sistema di massaggio multipoint. Con la nostra C5 Aircross proseguiamo il nostro itinerario e da Gubbio arriviamo a Gualdo Tadino salendo fino all'eremo di Serra Santa a quota 1348 metri. Un complesso costituito da una chiesina medievale con un porticato rifugio, un luogo già santificato dalla presenza di remiti e anacoreti che attraverso i secoli hanno popolato le aspre pendici del monte. La C5 Aircross affronta senza difficoltà la strada che porta all'eremo anche in presenza di fondi a bassa aderenza quando il sistema Grip Control a garantirne la motricità.